Ancora una volta i cittadini di Battipaglia sono costretti a protestare per far sentire la loro voce. Troppe le auto e moto di grossa cilindrata che rendono il sonno impossibile nelle ore notturne ai residenti di via Domodossola, a ridosso di via del Centenario d'Italia. Chi abita in questi palazzi chiede all'amministrazione di intervenire per mettere fine a queste corse scorribbande notturne di auto e moto. Ma anche alle forze dell'ordine di intensificare i controlli nelle ore notturne, in quanto non riescono a dormire l'indomani tutti noi andiamo a lavorare, tuonano i cittadini della zona. Il rettilineo di via Domodossola è invitante in quanto ampio e lungo, ed i balordi sfrecciano a forte velocità con la paura che si possa registrare anche un incidente stradale di notevole importanza. Una sorta di autodromo non autorizzato dove si sentono motori roboanti sfrecciare a velocità sostenuta. Alcuni residenti chiedono anche di verificare, come fatto per Viale della Libertà, di installare i dossi per rallentare la velocità di auto e moto. Disaggi anche in via Ionio, dove le forze dell'ordine sono dovute intervenire varie volte per mettere fine a delle corse messe in atto da vetture e motocicli, specie questi ultimi sanzionati con il sequestro di vari modelli che non erano in regola. Adesso però i cittadini di via Domodossola sono pronti anche a redigere un atto formale di protesta per mettere fine alle corse notturne pericolose, in quanto potrebbero creare incidenti seri, ma anche e soprattutto rumorose, in quanto nel cuore della notte si sentono questi rombi di motore potenti che percorrono il rettilineo a forte velocità e quindi impediscono il normale sonno notturno a chi abita in zona.